Gossip, Alessia Marcuzzi Gossip, Alessia Marcuzzi, non riesco a placarmi. Non mi è mai mancato un piano B. Gossip, Alessia Marcuzzi, la pinela al Corriere della Sera si definisce una donna irrequieta ma con tante risorse e voglia di fare. Gossip, la conduttrice tv Alessia Marcuzzi si definisce una donna piuttosto irrequieta che ama fare mille cose. Sostiene o idee in continuazione, da quando sono piccola. Già da bambina avevo una vitalità non normale. Ho iniziato a leggere da sola Topolino, a tre anni e mezzo. Dopo che lo hanno scoperto, mi hanno messa in una primina e a 16 anni e mezzo ho finito il liceo. Non si definisce la tipica secchiona, ma avevo un talento nellapprendere. I miei mi hanno dato molti stimoli e molte regole, sono state fondamentali e io non riesco a imporle troppo ai miei figli. L'irrequietezza l'ha avuta anche nel rapporto con gli uomini ha detto Corsera. Grazie a tutti!